vita primitiva amici miei oggi sto andando a prendere il mio amico primitivo 9 di ottobre del 2021 fa esattamente quattro gradi e l'altro a ieri ha nevicato oggi hanno messo bella giornata sperando che non ci siano cambiamenti noi sappiamo che la montagna può succedere di tutto bene ci abbiamo con voi in questo video e spero di fare una bella captura di queste pepite di oro per voi perché voi amate la natura e sapete quanto bello è essere in mezzo alla natura in cerca di queste pepite bene sto arrivando dal mio amico arrivati bene adesso andiamo a fare i minatori la pepita di oro è una bellissima giornata bene abbiamo fatto con le nostre biciclette assistite ecco di qua mio amico primitivo è che la mia è la mia ha un cambio solo se l'intena due capito ho capito bellissima giornata ragazzi bellissima giornata 9 di ottobre abbiamo il bosco perfetto perfetto buongiorno a voi ecco inizia la ricerca bene proseguiamo il cammino siamo già in alta montagna abbiamo una giornata bellissima il mio amico preistorico si trova lì in fondo alla ricerca e vediamo vediamo cosa succede bene grazie bello bene un buon segnale bellissimi guardate bene 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 qui ce ne sono altri bellissimi 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 bellissima giornata bellissima giornata sta andando abbastanza bene bellissima giornata da tante dove passa incredibile questo uomo incredibile eccolo qua ragazzi è dura ma chi in cerca trova non bisogna mai molare eccoci qua bellissimo bellissimo bellissima fantastico sono gli ultimi la meraviglia la pepita d'oro al merito del lavoro ricompensa guardate che bel posto qui è solo di respirare amare il bosco il silenzio qui c'è vita che bellezza che bellezza parla vedete rischiamo di perdersi dove sei apparso come un fantasma dall'altra parte era di qua e apparso di là mamma mia che primitivo compagno è lì in alto io faccio penitenza con questo uomo è dell'altra parte è dura sei aspettami non sono ancora primitivo come te vedete 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 dove siamo io non lo so questo qua è un grande maestro guardate in che situazione siamo guardate tutto da salire questa è la ricerca dell'erbe pita d'oro e qua il mio amico preistorico attraversa tutta la montagna al massimo ma c'è un po di casino guardate che bella giornata c'è un po di casino guardate il mio amico preistorico è pazzesco 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 guardate il mio primitivo cosa fa mamma mia fuori di testa la vedete qua mi ha portato di là non c'era niente e allora ha attraversato lui taglia tutta la montagna eravamo di là vedete se mi ha portato dall'altra parte è uno che cerca il tesoro è tutto interessante io ti seguo fino alla morte guardate che bella giornata bellissima giornata beh ti credo che hai trovato tu vai dove nessuno arriva guardate dove mi ha portato è impressionante è un guerriero guardate guardate dove mi ha portato ragazzi guardate dove mi ha portato è impressionante questo è bello da filmare è un momento unico c'è una nuvola che è arrivata qui è impressionante è già sparito erano ancora verdi no? eh lo sai che li ho fatti? cosa? è magra la storia la neve questa è la neve è ora di recuperare un po' di energia ragazzi durissima durissima è un po' di energia guardate si ho capito non bisogna non bisogna non bisogna fare cose cose pericolose insomma è chiaro che qua siamo come i caproni siamo diventati come gli animali insomma bisogna essere allenati altrimenti altrimenti no 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 qua un albero caduto la neve fa abbattere questi alberi purtroppo è così pazzesco vengo di qua si forma in questo terreno siamo a 2150 metri qua è pieno di cirmo guardate tutta una zona circondata da cirmo il mio amico mi ha portato in alto eccolo qua qua il sentiero che dicevo no? questo è il sentiero e dove va questo? due mila e cento metri bellissimo bellissimo bellissima giornata bellissima giornata ragazzi ecco i risultati bene abbiamo concluso abbiamo concluso stiamo tornando adesso la vicessa adesso la vicessa adesso la vicessa ecco la vicessa ecco la vicessa ecco la bicicletta assistita ci aiuta tornare a casa fantastico è stata una giornata è stata una giornata bellissima è stata una giornata bellissima è stata una giornata bellissima venite in montagna è troppo bello è stata una giornata bellissima 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 è stata una giornata abbiamo camminato abbiamo camminato circa 15 km come avete visto in un video e abbiamo voluto fare questo esperimento possiamo dire che vai da bene ci siamo divertiti bellissimo allora pensateci bene anche voi per il prossimo anno di prendere una bicicletta elettrica grazie mi seguite grazie grazie